Il 10 e l'11 agosto Agropoli ha vissuto con grande gioia e partecipazione i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Come Maria ha fatto visita con Gesù nel suo grembo a Santa Elisabetta, allo stesso modo oggi la sua immagine viene portata a far visita alle famiglie nei diversi quartieri della città. Sabato 10 la statua della Madonna delle Grazie ha fatto visita ai quartieri più periferici, accolta nelle case di quanti con devozione e amore ne attendevano il saluto. Domenica 11 la processione ha seguito l'itinerario delle vie principali, per terminare con la benedizione finale in piazza Vittorio Veneto e la preghiera di affidamento alla città da parte del parroco Don Bruno Lancuba. Un grande plauso va ai portatori e alle famiglie che hanno accolto il passaggio della Statua della Vergine con addobbi e fuochi pirotecnici. Soddisfatto il Comitato Festa anche per il successo riscosso dagli eventi di piazza, con le cover band dei Queen e dei Nomadi, che hanno richiamato in città migliaia di presenze. Per l'intercessione della bellissima Madonna delle Grazie, di benedita a Dio, di potente Padre, Filippo e Spirito Santo. Madonna delle Grazie, Madonna delle Grazie, Madonna delle Grazie, Grazie. Mamma mia, tutti e voi. Grazie. 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 Ciao a tutti.